Salve San Pietro, prima di entrare in paradiso vorremmo farle una richiesta. Ditemi pure. Siccome noi adoriamo le macchine, le volevamo chiedere se fosse possibile avere un mezzo di trasporto in paradiso. Certo, l'unica cosa è che il mezzo che vi darò si baserà su quante amanti avete avuto in vita. Se ne avete avute molte, vi darò un mezzo economico e se ne avete avute poche, vi darò un mezzo costoso. Ok, io ho avuto cinque amanti. Allora ti darò una panda nuova. Io ho avuto venti amanti. Allora ti darò una 500 usata del 1996. Io non ho avuto amanti, ho sempre amato solo mia moglie. Allora ti darò una Ferrari. Mario, perché sei triste? Ho appena visto mia moglie. E non sei contento? No, era in bicicletta. Ti piace la mia fattoria? E questa sarebbe una fattoria? No, in America abbiamo fattorie 100 volte più grandi di questa. Ah, ok. E quello che animale è? È la mia pecora. Pecora? Così piccola? Noi in America abbiamo pecore tre volte più grandi della tua. Ah, ok. E quello che animale è? È la mia mucca. Mucca? Stai scherzando? Noi in America abbiamo mucche sei volte più grandi della tua. Ah, ok. E quello che animale è? Ma come? Non l'hai riconosciuto? È un topo. Questa è una rapina. Non muovetevi. Adesso vi legherò. Prendi tutto quello che vuoi, ma ti prego, libera la donna. Sei così innamorato di tua moglie? Questa è la mia vicina. Mia moglie arriva tra dieci minuti. Come mai siete finiti alle porte del paradiso? Io ero appena tornato a casa dal lavoro quando ho trovato dei vestiti sul pavimento che non mi appartenevano e ho sospettato che mia moglie mi tradisse. Allora ho iniziato a cercare e ho visto che c'era un uomo appeso fuori dal balcone. A quel punto, accecato dalla rabbia, l'ho fatto cadere lanciandogli l'armadio. Tutto quello sforzo mi ha fatto venire un infarto ed eccomi qua. E tu, come mai sei quassù? Io stavo dipingendo la facciata di un palazzo e scivolando mi sono aggrappato al balcone quando un tipo fuori di testa mi ha lanciato un armadio facendomi cadere. E tu invece, cosa ti è successo? Io ero con la mia vicina quando a un certo punto lei mi dice Sta arrivando mio marito! Presto, nasconditi nell'armadio! E da quel momento non ci ho capito più niente. Io ho un appuntato che più tonto non si può. Io ne ho uno ancora più tonto. Impossibile, adesso ti faccio vedere. Appuntato? Ecco 5 euro. Vami a comprare un chilo di vento. Ok, maresciallo. Hai visto che tonto? Guarda, il mio è anche peggio. Te lo dimostro. Appuntato? Vai a casa mia e vedi se ci sono. Ok, maresciallo. Io ho un maresciallo che più tonto non si può. Il tuo? Il mio è anche peggio. Perché? Cosa ha fatto? Mi ha dato 5 euro per comprare un chilo di vento. Ma non lo sa che oggi è domenica e i negozi sono chiusi? Il mio ha fatto anche peggio. Che cosa? Mi ha detto, vai a casa mia e vedi se ci sono. Cioè, ma che richiesta assurda è? Lui una telefonata non la poteva fare? Cosa? Mi hai tradito con il modello che vive nel condominio? Scusami, amore. Il fatto è che è talmente bello che non ho saputo resistere. Pensa che grazie al suo fascino è stato con tutte le donne del palazzo, tranne una. Mario, il modello che vive nel nostro condominio è stato con tutte le donne del palazzo, tranne una. Devi avvertire tua moglie. Cara, devi stare attenta. Perché? Ho saputo che il modello che vive nel condominio è stato con tutte le donne del palazzo, tranne una. Sì, lo so. È quell'antipatica del quinto piano. Ciao Mario. Ciao Luigi. È da quando ci siamo laureati in ingegneria che non ci vediamo. Eh già. Come vanno le cose? A me bene. Sono diventato assessore ai trasporti del mio comune. Wow, che coincidenza. Anche io sono diventato assessore ai trasporti del mio comune. Che bello. Perché non vieni a casa mia domani? Ok. Wow, che bella villa che hai. Come hai fatto a diventare ricco così in fretta? Grazie al mio lavoro di assessore. Anche io sono assessore, ma mica si guadagna così tanto. Come no. Vedi quella strada là? Sì. Bene. È bastata farla un po' più stretta e con materiali più scadenti. Ah, capisco. Ciao Mario. Ho visto che hai fatto i soldi anche te. Ti sei comprato addirittura un castello. Come ci sei riuscito? Vedi quell'autostrada là? No. Appunto. E vai. Ho creato un nuovo animale. Non è adorabile? Em, sì capo. Ma cos'è? L'ho chiamato gatto. Voglio milioni di questi sulla Terra. Adesso. Ma, ma, non possiamo farli proliferare nel mondo. Verrebbero subito mangiati dai dinosauri. Ah, già. I dinosauri. Lancia subito un bel meteorite sulla Terra. Allora, dopo tanta teoria è finalmente giunto il momento del vostro primo lancio. Adesso ci troviamo a 9.000 metri. Siete pronti a buttarvi? Em, istruttore. Ma non è troppo alto? In effetti 9.000 come primo lancio è un po' troppo. Lo faremo da 6.000. Istruttore, mi sembrano tanti anche 6.000. Effettivamente, anche 6.000 sono tantini. Lo faremo da 4.000. Istruttore, secondo me sono tanti anche 4.000. Ok, lo faremo da 2.000 metri, ma sappi che hai rotto le scatole. Ragazzi, siamo a quota 2.000 metri. Indossate e controllate il paracadute e lanciatevi. Ah, ma col paracadute! Uffa, non ho voglia di lavorare oggi. Neanche io. Scusa, ma perché non chiudiamo l'ufficio e andiamo a casa prima? Tanto il capo non c'è. Ok. Ieri ho passato proprio un bel pomeriggio senza lavorare. A te com'è andata? Guarda, è andata malissimo. Ieri, dopo essere uscito prima, sono andato a casa. Appena entrato, sento delle voci provenire dalla camera. Sbiccio dalla porta e vedo mia moglie insieme al nostro capo. Cavolo, mi dispiace. Deve essere stato uno shock. Eh sì, il capo mi ha quasi scoperto che non ero al lavoro. Quattro giorni fa ho fatto i capelli a un fruttivendolo e siccome questa settimana non accetto soldi perché voglio fare un servizio alla comunità, lui mi ha portato un cesto di frutta. Che gentile! Tre giorni fa ho fatto i capelli a un fiorista e siccome questa settimana non faccio pagare, lui mi ha portato un mazzo di fiori. Che gentile! Due giorni fa ho fatto i capelli a un panettiere e siccome questa settimana non faccio pagare, lui mi ha portato un sacco di pane. Che gentile! Ieri ho fatto i capelli a un politico e quando ha saputo che questa settimana non faccio pagare, sai cosa ha portato? Cosa? Ha portato i suoi amici e i suoi parenti a fare i capelli. Oh no! Sono naufragato in questa isola deserta! Ciao! Ah, meno male! Allora non sono solo in questa isola! Eh sì, io sono naufragato qui cinque anni fa! Cinque anni fa? Ma non ti sei annoiato tutto questo tempo? Guarda, durante la settimana non mi annoio molto! Il problema è la domenica, è tutto chiuso! Salve sindaco! Ho scoperto che molte signore del paese tradiscono i loro mariti, ma poi quando vengono a confessarsi non me lo dicono! Secondo me loro non lo dicono perché provano vergogna, per aiutarle si potrebbe usare un'altra parola, invece che tradimento potrebbero dire che sono scivolate! Bella idea, lo dirò a tutte loro! Un anno dopo il prete muore e ne arriva un altro! Salve sindaco, sono il nuovo prete! Sono venuto da lei per chiederle di riparare le strade del paese! Tantissime signore mi dicono che scivolano spesso! Scivolano spesso? Sindaco, non c'è nulla da ridere! Guardi che sua moglie è scivolata già quattro volte questa settimana! Caro, potresti cambiare una lampadina in salotto? No cara, mica sono un elettricista io! Caro, potresti aggiustare la gamba del tavolo? No cara, mica sono un falegname io! Caro, potresti controllare un tubo che perde? No cara, mica sono un idraulico io! Cara, ho notato che la lampadina è accesa, che il tavolo è riparato e che il tubo non perde più! Come hai fatto? Ho chiamato Franco il tuttofare! Ha chiesto molti soldi? No, non ha voluto soldi! Mi ha chiesto di diventare la sua amante oppure di fargli una torta! Cosa? E tu cosa hai risposto? Caro, mica sono una pasticcera io! Cameriere, assaggi questa zuppa! C'è qualcosa che non va? Assaggi! È troppo calda? Assaggi! È troppo fredda? Assaggi! C'è poco sale? Assaggi! Allora c'è troppo sale! Le ho detto, assaggi! Ok, va bene! Ehi, ma manca il cucchiaio! Aha! Che fortuna che ci hanno fatti salire sull'arca! Eh già, questa cosa del diluvio universale è veramente una scocciatura! Noi siamo salvi, ma pensa poverini dinosauri! Siccome sono troppo grandi, non li hanno fatti salire! Veramente una brutta storia! Oh, ma che sbadato! Io e te siamo stati scelti per portare avanti la nostra specie e ancora non mi sono presentato! Io mi chiamo Franco! Piacere! Mario! Adamo ed Eva, ho due doni per voi! Il primo è quello di poter fare la pipì in piedi! Lo voglio io! Lo voglio io! Va bene, Adamo! Questo sarà il tuo dono! Dio, scusa! E qual è l'altro dono? Il cervello, Eva! Il cervello! Dottore, sono stato fuori quattro mesi per lavoro e al mio ritorno ho scoperto che mia moglie è incinta di due mesi. Secondo lei, com'è possibile? Guardi, per farle capire cos'è successo, devo raccontarle una storia. Ok, mi dica! Un giorno, un mio amico cacciatore andò nel bosco, ma per sbaglio prese l'ombrello invece del fucile. A un certo punto, dal cespuglio, uscì un fagiano enorme. Il cacciatore afferrò l'ombrello, lo puntò verso il pennuto e questo cadde stecchito davanti a lui. Ma è impossibile! Qualcun altro deve aver sparato al posto suo! Ecco, è proprio quello che sto cercando di spiegarle. Il vostro curriculum è ottimo! Voi siete assunti! Guardi, vogliamo essere sinceri! Noi siamo cannibali! Apprezzo la vostra sincerità! Se mi promettete di non mangiare nessuno dell'azienda, vi assumerò comunque! Ok, non mangeremo nessuno! Perfetto, allora siete assunti! Si stanno lamentando perché è scomparso l'uomo delle pulizie! Non è che sei stato tu? Ehm, sì! Ma sei impazzito? Sono giorni che mangiamo manager, capi e responsabili, in modo tale che nessuno si accorga di niente. E tu dovevi proprio mangiarti l'uomo delle pulizie? Ecco tre frasi che la maggior parte delle persone non sanno dire. La prima è, 33 trentini entrarono in Trento, tutti e 33 trotterellando. La seconda è, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. E la terza, in assoluto la più difficile, è, scusa, ho sbagliato! Amore, oggi che ci siamo sposati, potresti dirmi cos'è successo agli altri tre mariti che hai avuto? Ma certo, caro! Il primo marito è morto perché ha mangiato dei funghi velenosi e l'assicurazione ha pagato un sacco di soldi. E il secondo marito? Il secondo marito è morto perché ha mangiato dei funghi velenosi e l'assicurazione ha pagato un sacco di soldi. Cavolo, e il terzo marito? Anche lui ha mangiato funghi velenosi? No, lui è morto a causa di un colpo alla testa. Come mai? Perché si rifiutava di mangiare funghi. Salve San Pietro! Io e mia moglie siamo finiti qui in paradiso. Ah, bene, vi stavamo aspettando. Abbiamo riservato per voi una bella nuvoletta dove potrete passare l'eternità insieme. Eh no, i patti non erano questi. Quando ci siamo sposati avevamo detto finché morte non ci separi. Ciao amici e amici! Se questa raccolta di barzellette vi è piaciuta mettete like. Tra qualche giorno ne pubblicherò un'altra. Poi non scordatevi di acquistare il mio nuovo libro Fatti una risata perché fa troppo ridere. Ciao!